cicciuli belligelanti io sono il dictator lorenz e questo è il nuovo episodio con bisanzio guarda la lei la sesta grande potenza signori stiamo arrancando no la sesta grande potenza par di balle siamo la seconda grande potenza secondi in dev solamente ad una spagna che con la presa della toscana parte dell'emilia romagna e della lombardia è diciamo un po legemone una spagna che peraltro è il nostro rivale e in questo episodio potremmo cercare di fare delle cose veramente veramente laide perché a mio a mio avviso se riusciamo arrivare a force limit io diciamo una bottarella ai mammelucchi la darei più che volentieri allora qui c'è l'ungheria che è in guerra con venezia noi diamo concediamo il passaggio poi per quanto riguarda questa zona qua io non farei il territorio perché vorrei farla trade company una volta presi questi territori di accoglio e valuterei anche la possibilità dopo la conversione dell'italia di fare una bella trade company anche sul nodo di venezia non subito perché prima voglio convertire non voglio beccarmi il malus alla conversione allora noi possiamo abbassare l'autonomia da qualche parte solamente qui perfetto allora io direi qui stanno arrivando anche loro ok intanto qui c'è la conversione in anatolia perfetto e anche qua abbiamo convertito alla grande anche qui abbiamo convertito alla grande possiamo teccare sì molto bene molto bene a livello economico noi come siamo messi vediamo un po' a livello siamo quarti abbiamo davanti mamelucchi spagna e francia non di non di tantissimo comunque non di tantissimo qui dobbiamo abbassare l'inflazione mio signore dobbiamo abbassare l'inflazione allora il vero problema del mamelucco è che ha tantissimi uomini e porta dentro la spagna se la spagna possiamo cercare di counterarla con con la chiamata alle armi della francia no stai qua che devi reclutare i cannoni stai qui che mi devi reclutare i cannoni ok allora il vero problema è che la francia avrà interesse in italia infatti vuole lucca pisa e siena questo è un problema al momento noi però dobbiamo focussarci su un'area in particolare per quanto riguarda le missioni invece allora noi come missioni che cosa dobbiamo fare repulse the republics e gean arcipelago aree allora noi possiamo sicuramente farci creta finalmente direi prendiamo 5 di legittima sì allora tu vai a sbarcare a creta e via siamo a farci creta dovrebbero bastare quei 9.000 uomini voi potete anche restare qua ne hanno 3.000 almeno questi li facciamo fuori subito 176 iniziamo a tenere da parte anche un po di denaro creta è importante per noi creta è veramente importante allora voi direi iniziate a migliorare queste devono andare in porto va in porto ad ottimatoi dobbiamo prendere anche una una flagship noi allora noi potremmo fare la decisione per prendere le navi 5 karak 6 karak prendiamoli sono gratis possiamo anche teccare militare abbiamo preso il 5 per cento di disciplina allora sì qua abbiamo fatto lo sbarco adesso occupiamo ho dovuto mettere in posa perché mi è arrivato il corriere sempre nel momento più sbagliato qui abbiamo delle barche delle barche nexus nexus ok allora l'austria vuole passare per me potrebbe anche andar bene stability cost modifire scontato però terrei questo qui allora noi potremmo decidere in questo momento di togliere il focus perché comunque stiamo anche facendo le idee militari almeno teniamo un po di un po di bilanciamento ci vogliono 338 ducati per upgradare la flotta ok molto bene possiamo anche mettere per tre qui allora voi direi occupatevi di quest'area qua neugenei eh dobbiamo rinunciare a parte della riforma mio signore bene 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 allora noi possiamo anche avviare alla fine di questa guerra l'integrazione della trebisonda almeno ci liberiamo un posto più che altro perché qui noi 15 noi in teoria se a Samshkete gli dovessimo dare il Plakite Rulers anzi no mandiamogli questo così non rischiamo prestigio ok gli abbiamo levato possibilità questo qui adesso in teoria dovremmo ereditarlo noi ok qui si muove in automatico molto bene bene voi direi potete andare anche qui perfetto ma siamo sti ribellaci disgraziati perfetto molto bene adesso dovremmo avere i soldi per fare l'upgrade delle navi direi voi tre potreste anche mettervi in missione a Venezia quando è il momento opportuno ok qua cosa che georgian separatist che sono loro vai qua in Galazia e iniziamo a far fuori anche questi allora io continuerei a convertire l'Italia onestamente adesso vorrei convertire l'Italia purtroppo non riusciamo a convertire i riformati perché hanno non lo so hanno più strength da quel punto di vista lì ok c'è l'unconditional creta cade creta mio signore è caduta molto bene perfetto la corriamo immediata subito voi andate in Galazia così facciamo esplodere anche quei ribelli lì allora vediamo un po' noi potremmo attaccare potremmo attaccare Austria Papal State potremmo attaccare Austria e Papal State tirerebbe dentro tirerebbe dentro eh no però l'Austria onestamente non vorrei non vorrei non vorrei allora noi se attaccassimo tipo i mamelucchi il Papal State questa sarebbe già più più fattibile secondo me questa secondo me sarebbe già più fattibile io direi annettiamo il vassallo morto un military leader ce ne faremo una ragione vediamo di tirarne su un altro magari è meglio ok perfetto noi con la Francia siamo sposati sì allora vediamo se riusciamo ad umiliare qualcuno no barghiamo la Russia adesso che è finita la trousse voilà ok queste si devono sistemare eh le altre navi ci vorrà un bel po' eh sulle altre navi ci vorrà un bel po' ok questi sono entrati nella nostra coalizione allora vediamo se riusciamo ad attaccare il mamelucco 131.000 per attaccare il mamelucco però noi abbiamo bisogno di tutto il nostro esercito dallo stesso lato io direi iniziate a venire di qua questa potrebbe essere una grande guerra potrebbe essere una grande guerra noi potremmo aver bisogno di mercenari potremmo aver bisogno di mercenari allora vediamo un po' noi potremmo prenderci la Kurdish Company o la compagnia di Novgorod 2432 3432 3432 questo è anche un buon anche un buon generale prendiamoci questi mercs bene Monarch Point Monarch Point vediamo di devare un pochino in Cilicia Cilicia Nikopol Cotion è scoppiata una ribellione dove? ma che due coglioni ci mandiamo i ribelli a sedarla via altri Monarch Point buono allora abbiamo rinunciato a questi due ma non è che me ne freghi più di tanto allora io tenderei a prendermi comunque questo per la production e per quanto riguarda questi prendiamo l'advisor scontato di livello 3 per la trade efficiency che direi va molto bene per quanto riguarda il dev allora che è quello che volevamo andare a toccare allora noi abbiamo possiamo devare in Cilicia che c'è il cotone ok poi vediamo dove riusciamo a buttare dentro allora Nicopol o Trachesion questa che provincia è dovremo anche qua Nicopol perfetto perfetto ok adesso li andiamo a prendere quegli altri andiamo a prendere quelli lì ecco sti ribelli è un po' un dito ecco avete capito avete capito perfettamente raga avete capito perfettamente 133 quanto mi darebbe di mantenimento ritirarne su un'altra la palace guard mettiamola lì ok continuiamo le nostre conversioni dei cattolici sudici ok vorrei far fuori questa tornata di ribelli allora vediamo un po' questi dove arrivano arrivano qua sotto 500 ducati vabbè prendiamo un po' di unrest che va sempre bene almeno poi dopo li pestiamo abbiamo la scusa per pestarli mio signore è proprio quello il bello voglio attaccare i mamelucchi voglio attaccare i mamelucchi questi sono i cog teniamoli lì teniamoli lì i cog pestiamo anche questi poi abbiamo i dalmazian separatists danimarca che ci chiama in guerra contro la russia noi accettiamo russia che è rivale possiamo vendere i titles al momento ma non li voglio vendere non li voglio vendere vediamo i numeri di questa guerra secondo me ce la fanno ce la fanno da soli allora vediamo se noi riusciamo a prenderci questa zona qua eh però vedi anche loro la vogliono quindi forse forse è meglio levarle da province di interesse noi ci muoviamo per andare a prendere quelle province lì ragazzi noi ci proviamo per andare a prendere quelle province lì via andiamo a portare la nostra flotta qua così blocchiamo queste quattro barchette sudice di russi perfetto qua con gli emporioi sapete ragazzi che questo qua non è poi così impossibile da levare se riusciamo ad avere un evento o ad aumentare la lealtà ci potrebbe anche stare ma c'è dentro la polonia in questa guerra no non c'è dentro la polonia eh se riusciamo a prendere la crimea è un bel colpo eh da sta guerra vediamo un po' magari in una pace separata tu vai subito a mosca andiamo a prendere Kerson Kerson il tappeto che esce il tappeto che esce ok ok perfetto abbiamo quasi integrato la trebisonda perfetto a prendere Crimea morto un advisor quello militare scannoniamo mosca scannoniamo mosca Crimea è andata giù andiamo a Mariupol questa è una guerra che è iniziata nel 53 ok riuscire a prendergli la Crimea da questa guerra per noi sarebbe tanta roba sarebbe tanta roba perché è un nodo che butta in Costantinopoli allora noi riusciamo a convertire Zadar ok perfetto molto bene molto bene molto bene integrata la trebisonda allora integrata la trebisonda e avremo sicuramente dei dov'è qua a qui ci abbiamo 13.000 uomini abbiamo separatisti a Venezia no ma li abbiamo qua quindi iniziate ad andare lì perfetto dai Bisanzio 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 ok vai ad Astrakhan anche Astrakhan anche Astrakhan mica fa schifo abbiamo fatto una missione che missione abbiamo fatto fammi vedere un po' Recover Authority uh molto bene molto bene 15 di Loyalty Clericoi molto bene mio signore guarda che fedeltà guarda che lealtà guarda quanto amore rebuild Exa Million Wall vai costruiamo vai col defensiveness facciamo Fort Knox facciamoli che è andata giù Mosca noi potremmo provare a fare una pace separata volendo vediamo un po' e mi vai verso Kazan vai a prendere Novgorod qual è l'Urgol? Neva saggibaldi 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 stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando qua ok scendi giù di qui anzi anzi neva vai pure lì a Nizninov Gorod vediamo se riusciamo a prenderli qua sotto sono tanti scendi giù anche te vediamo se ce la facciamo con queste truppe qui eh li sciogliamo qualità russa imbarazzante qualità russa imbarazzante andando a sevastopoli ok su questi li facciamo fuori 55 la guerra è iniziata nel 53 noi che cosa riusciremo a portargli via questi noi potremmo portargli via la Crimea potremmo portargli via la Crimea facessimo una roba di questo tipo ci servirebbe ci servirebbero più punti ci servirebbero più punti ok ok tiriamogli una scorciatina questo lo sacrifichiamo ok e qui esplodono adesso e qui adesso esplodono vediamo adesso che cosa riusciamo a portargli via noi riusciremmo a portargli via questo noi potremmo anche umiliarli volendo noi volendo potremmo anche umiliarli però a me dell'umiliazione al momento non me ne frega niente nel senso che noi potremmo portarci a casa la Crimea e io faccio pace separate e mi porto a casa la Crimea perfetto abbiamo fatto una missione abbiamo fatto una missione che missione è questa qua vediamo un po' Prince of the Lays Permanent Circassia molto bene There is only one Roman Empire Trebisonda Center of Trade di livello 2 upgrade automatico molto bene molto interessante molto cizzulo Coxley Coxley e noi qua potremmo potremmo farci potremmo farci una bellissima no non possiamo farci una bellissima trade company potremmo farla qua volendo potremmo farla qui la trade company Abkhazia 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 qui com'è la religione la religione qua è già tutta ortodossa queste sono già convertite beh allora se queste sono già convertite io direi che Abkhazia per esempio potremmo toglierla dal territorio e farci la trade company e ci facciamo la trade company del cazzetto molto bene molto bene molto bene molto bene e adesso qui ragazzi siamo siamo pronti siamo pronti per andare a pestare il sudicio ma Melucco attenzione perché noi abbiamo una decisione del del nostro senato romanorum allora inizitutto abbiamo i kosaki interessante early army tradition land leader shock e non è male e non è male 25 dal manpower per tutte le steppe freedom of steps local dev minimo noto cossack military leadership free army reform morale of armies ma è scontato perdono 10 di lealtà interessante questa exempt from bureaucracy 5 loyalty 5 influence military service anche questo è interessante looting speed 10 armi tradition che schifo non fa però mi toglie 15 di loyalty allora aspettiamo con i kosakini ma quindi scusami noi adesso possiamo reclutare i kosakini no è una fake news questa allora va bene va bene va bene va bene dicevo vediamo che dibattito possiamo fare meno 10 di advisor cost and for next 10 years eugenia's influence reform progress growth non è male emporio influence 16.3 di national tax modifier interessante assimilation cultural conversion cost missionary mercantilismo domestic power diplomatic annexation cost quartering of the troops questo non mi interessa per adesso questo ci aumenta le relazioni con i nostri vassalli ma se sono supportati è inutile missionary strength noi potremmo fare questo con gli emporioi ci abbassa l'inflazione national tax modifier oddio sai cosa ti dico che io mi prendo questo dell'autonomy io mi prendo questo dell'autonomy che abbassa l'autonomy molto bene noi qui possiamo corare tutto quanto noi qui possiamo corare veramente tutto quanto bel colpetto questo è un qualcosa che non mi aspettavo onestamente questa guerra con la russia russia che veramente verrà disintegrata dalla danimarca c'è poco da fare c'è veramente poco da fare allora noi potremmo valutare la possibilità di fare dei forti a te friche per esempio ci starebbe non sarebbe male trebisonda ha perso il forte per esempio trebisonda ha perso il forte vabbè direi anche di no teniamo i soldi voi andate a te friche io voglio concentrarmi sul mamelucco onestamente voglio concentrarmi sul mamelucco questa potrebbe essere un'opzione importante per noi perfetto intanto qua convertono che è una meraviglia costa crociate navighiamo per convertirvi oh yes scream dove sti ribelli oh cristo allora vai a ammazzare i ribelli su vai a ammazzare i ribelli cosa vuole l'austria ma succhia su dicia su dicia sposiamoci con la polacchia ok qui ci sono dei ribelli li facciamo fuori perché ci passiamo sopra molto bene molto bene 20% prenderei la tecca così ci manteniamo in vantaggio io direi che potremmo prenderci lo sconto oddio non che mi interessi molto questi che cosa sono soffanti devono stare lì voi tornate qua e adesso iniziamo ad averne iniziamo ad averne un po' iniziamo ad averne un po' perfetto ma noi a livello di institution scusa qui a Napoli c'è Venezia Venezia ce l'ha quasi va benissimo va benissimo vai a prendere questi perfetto tu intanto allora qui che cosa abbiamo la Calabria qui abbiamo la Calabria e la Calabria andrebbe convertita però poi ci facciamo la Trade Bombani no Edict perfetto allora mercenari mercenari palas no tema Tessalonica ok questi sono assieme perfetto tu tu mi ha spalato io direi a sto punto siamo full manpower direi per oggi ci fermiamo qua e nel prossimo episodio senza se senza ma si va a pestare i mamelucchi se l'episodio vi è piaciuto lasciate un bel like per tutto il resto c'è Mastercard no per tutto il resto c'è l'appuntamento con il prossimo un saluto dal vostro Basileus Bisanzio non solo vive ma prospera ciao belli